Uhu Sono dentro una pietra E' bene che si cambia il ratio di foco No, ma non so se l'ho cambiata Ok, first set Press no force no il suo progetto ossa il mare rossi oddio nemmo la sua nemmo la sua andiamo la sua e se si che ti piace arrivare adesso scendiamo io ci ammazzano subito in posizione subito in posizione oddio 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 e si inizia non glice io per rispetto ah ma puoi anche gliciare si ma non glice era tanto una curiosità per vedere non voglio rinnovare attenti 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 mi sparavano e non ne ho idea dal fortino quanto stiamo cercando di farci uccidere tantissimo ma sii dovrei scoprire anche un pochettino in sti punti com'è che ci si può comportare un elicottero un elicottero tana qua è pericolosissimo noi moriamo più che altro ora che arrivi fino a sua la torre ti è morto no anche perché la torre c'è gente chissà quant'altro sento c'è intorno ma dai in pulizia tori non siamo messi così oh sento dei colpi destra non è da da sopra oltre sparano qua ho preso occhi 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 ho visto uno in cima alle scale era quali scale? e queste dovevi sto correndo oltre dove sta andando talpa si sparavano anche dalla torretta a sinistra mi sa si ho sentito anche hai lanciato una granata? io l'ho lanciata la granata lui me l'ha restituita come le lanci le venga? ma dai gli ho buttato un caricatore addosso vediamo è lì è lì sopra è lì è morto anch'io sono arrivati 57 si si lasse anche a me anche a me è lì 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 guarda l'olacchio ho pegato qua giù la testa che mi si è ahah ti sto facendo fare un po' di giro turistico sai cosa faccio? andiamo in alto e ci faremo tutti gli altri anche quella è una bella idea sai? mi sparo è proprio la mission impossible grandi ammazzizzi dove vado ragazzo dove vai? ehm allora eiezione mi sei già lanciato? si ok io faccio adesso wiii va a f***a l'elicottero che abbiamo rubato aspetta adesso vado ad ammazzare l'altro elicottero però quello che abbiamo visto alterare nooo se non mi tirano giù prima mentre sto volando infatti mi hanno ammazzato in volo che sfiga aia 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 vero nemici che bene ragazzi io vi saluto ma dai nooo ahahahahah adesso adesso le macchine un po' che vengono si è tagliato qui su un po' che non vada a base del futuro ci arrivano proprio di fronte ripeto ripeto di che natura? ha fatto bene il viaggio? a uoso maxi è molto bene ci arrivano di fronte se ci mettiamo tipo sopra quella tornetta e becchiamo macchine che arrivano pure a qualetta però è proprio la missione la cammini mi spareranno a manette ne arriva un'altra occhio eccola spariamoci tutti eh che ha esistenzo cinque ammucili di sopra quasi si ma che perché non l'abbiamo secato? no aia leppine ma è un blindato è un blindato cosa pensi di fa all'un blindato matti Eh, cosa rifacavi allora? Niente! Eh niente, aspettavi che si fermava! Eh, cosa? Quello va al punto, va dritto, va al passaggio? Ma va, si fermava, gli lanciava una granata sotto! Lo stava rallentando! Ma che ne sesso! Provavamo a aspettare un quad, uno sfigato su un quad! Vabbè comunque si appassano, credo, a paletto, di continuo! Però su un quad lo disintegravamo! E' da fin, che usciamo così mentre la macchina arriva trrrrrr! Che ha, tipo, rapine in banca! Ahahahah! No, non sono morto, molto peggio! Ero su un elicottero da trasporto, il pilota è crashato, e io ero il copilota! Quindi ci hai trovato? Dovrei guidare un elicottero che non si è guidato! Un enorme elicottero da... Ok! Oddio, cosa non ho fatto! Sei te quello, Talma! C'hai trinte su anche! Si! Te la fai a scendere? Si, si, sto scendendo! Talma ha scenduto! Oh, cosa ho fatto? Ce l'ho fatta! Tactical insertion! Ultimo giorno in arma! Secondo giorno in arma! A chi inventa elicottero passato! A chi inventa elicottero con passeggeri consegnato intero! Io controllo! Vissi! Viu quello a avere con nossos ucchi! Occhi! Ma bene! Vissi! Cosate! Vissi! Occhi! postponed per la vita! Alessandro año ozon. Casa Tagelare Paglia Fart needed. Chenn zapraszam! Grazie a tutti.